Allora nei 12 Sello sfondo metti l'Ibano e vai Sello sfondo metto il conto in banca dici Sfocato però L'intelligenza sfocato Conto in banca sfocato di intelligenza Non lo so mica Eh le PT a Parigi Porca troia vedi che scelta Però ai Carabini ci volevo andare O sennò vado ai Carabini Mi vado a fare solo una vacanzetta Mentre mi faccio due o tre torne dei poker E a Carabini vado in vacanza magari Faccio Carabini vacanza Proprio come vacanza cilada e vado a fare me le PT a Parigi Mmm Voi che dite chat Diba fa più da giocolò Che poker Stato tutto di copertina Mmm Questo è interessante Vogliamo fare la roa? No 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 È che mi piacerebbe andare fuori dall'Europa I Carabini sempre vuole una bella meta Però l'EPT a Parigi L'EPT è uno degli EPT più vicino che c'è qua da noi C'è a Parigi A febbraio Magari che sarebbe Faccio solo una vacanzetta Capito? Però la vacanzetta mi faccio le sette giorni Non ci vado tredici Sì Sì anche a Barcellona Sì sì anche a Barcellona Però l'EPT a sta la grande Grazie. Ah, la civilizzazione. Ricordo quando io ero partito. Ehi. Le caraibi costano circa 900 euro senza bagagli. Andate e ritorno. Sono sti cazzo, ma mi fa una vacanza, ma la faccio, perso. Se quando andiamo in vacanza dovete vedere quanto devo spendere, bro, cioè. No. Se quando andiamo in vacanza... Ma conta che come si fa stava a 600 euro il volo. Tra l'altro lo posso regalare perché lui c'ha il TP. Però lo regalare con la Catalyst, potrei regalare. C'è il senso, io ho TP, lui ha Ghost, quindi dovrei regalare a un certo punto, però. Come andiamo in vacanza perché c'ho il caribia un po' a cartura. E se tutta la vacanza, 13 giorni, verrebbe a costare 3000 euro senza mangiare. Col mangiare, ti è, mi ti dà, 4k? In Norvegia due settimane non ho spesi sei. Però questa mia donna fa anche l'IPT in Francia non ci posso più andare, capito? C'è già troppe spese. Ok. Regaliamo. Catalyst buonissima. Il team sta giocando bene, molto bene. In Norvegia non gioca i caribia. Sono due posti diversi, per me anche i caribia. Cioè sono due metti totalmente diversi, non puoi dire cosa è meglio sull'un all'altra. Sono completamente posti diversi. Imo. Non voglio farlo regalare. Ok. Sono due. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vammo, 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 vammo. Vammo. Ciao, Beltrax. 0-1. Naffanculo. Noi la mente l'abbiamo persa. Non abbiamo la ultima. Ok, tocca stare attenti. L'ultima di Mercury, immagino, non ha senso. Ok. Ulti 360, abbiamo ancora il Flash. Caso di Giganti Nocturne. Oh wow, buono. Non riesco a killarlo mentre non c'ho danni inutile andarci. C'è il chill, porto pressione almeno. Ora prende se possibile la pianta che c'è lì. C'è il blue gone. A meno gank bot di coso nessuna kill su Kog. 3 su Ash, mannaggia la puttana troia. Stanno qui a fare l'herald. Non c'è che pure bad, c'è, actually. Vedo pure la wave. Vado pure la world, ho finito. Rubito Nocturne. Buono. Bravi mid. Noi abbiamo fatto un'ottima cosa qua ragazzi. Non morire dalla ultima di Nocturne è huge perché Nocturne perde il suo game più forte che ha. Controlla si gioca così con Polarass. Benissimo, buono. Molto bene, roba pronta. Piennobili da subito per le stack. Troppo importante è qua regallare. Lo sfruttiamo pieno. Per non puscire la wave. A una volta posso ripaio. Credo che ti però proprio dall'altro, sì. Trinker blue. Home away. Ce lo give uperei. Ma qualora facciamo un po' di stacchini che non sono mai male, come ho già detto. Prima la stacchiamo meglio, eh. Ok. Nocturne bot. Nocturne bot. Nocturne bot. Nocturne bot. Un po' di stacchini. Sì Tutto che sei stupito bro Non c'hai la cosa Non c'avevi Dicono di spingere il cervello No balls rise C-A-C bro If you are a real man I am I am not stupid Brother C-A-C a corpo a corpo Ostanzialmente Sono gay Non lo sapevo Non lo sapevo Non Grazie a tutti. Signor Klyar? Ancara cani, ancara cani. Maduro è sleeping. Signor Klyar. Grazie per il supporto, signor Dani. 56 mesi di spremere e benvenuto nelle caglie di cane, sir. Welcome back, Dani. Grazie per il supporto. Let's go. Foro anche il blu. No. Bravo. Wow. Morti tutti. Bravi ragazzi. Pongo del tasso stupido Va in testa e si vola Eh ma questo è un bad coso Cioè A parte Raga Dopo la nocturne Dopo la nocturne Corriamo un setra E Steadbreaker Andiamo via Wukong Andiamo back anche noi Top 1 Redmondo Oh yeah baby Vola vola Oh bro Hmm Hmm Vani fa Vex? Fa danni pazzeschi Voleva decisamente da Levare qua Ovviamente ha beccato 10 danni Isoliamo le 200 HP Ma che fa? Mazer Ma Mazer ha attaccato Yumi che è uscita? Ma non c'ho parole Signor Alfredo con il tier 2 69 mesi di resa hub Ma che cazzo fa quello? Signor Alfredo grazie mille del supporto Eri benvenuto Per i 69 mesi Tra l'altro Siamo mesi un po' strani eh Rivenuto le cani-cane Alfredo Come stai? Benite tutto bene? Bravo Vukong Già perfettamente Is this doing this game? Boh io non lo so che ha fatto Mazer La free kill Ha fatto Non è stato per far morire Ma il sole è merda Facciamo i cracks Vukong meccanicamente non è Un genio purtroppo Ah non ha rimbalzato Facciamo bot Sono molto head Fare un messa bene Grazie a tutti All of top Sarà tos avvicinarsi a Bex Ma vaffanculo Dio cane Emo ve l'ho detto Signor Jack Desa Grazie mille del supporto Sette mesi di wish premier Benvenuto nelle cani-cane Eh io te lo dissi Sin dal primo giorno Quando gli fa bombare È sempre tardi Quando gli fa bombare È sempre tardi È sempre tardi bro Siamo sempre sul bilico Grazie mille Signor Jack Desa Sette mesi Eri benvenuto le cani-cane Qua abbiamo giocato molto bene Su Nocturne Abbiamo aspettato lo shield E' fatto tutti i danni Con un sangue freddo Della madonna Purtroppo poi è giunto a noi Anche quel pezzo di merda Di Vex Proprio questo bar Quindi nice team Nice play team Nice play Andiamo andiamo Arrivo Come sta il signor Jack? Tutto bene? Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo E niente È wardato ovunque Purtroppo Everywhere warded Dove andare di Banshee Contro quel team Mi sa che però Mi faccio una colosa Cioè dovrei andare di Morello Contro il team Però mi faccio una colosa Banshee Perché Vex Mi ha rotto Tre quarti De cazzo Facciamoci questa colosa Banshee Sì sì Tutto bene Tutto bene Grazie Jack Tutto bene anch'io Au Jack Che cazzo fai Che fa Jack È pazzo Bubi È un passo Un passo furioso Stanno a fare pure bene Sto game Tra l'altro Cioè guarda Se Olaf non era 0-6-0 This game dude Andiamo dritti dopo Abbiamo tp per andare bot Via via Non si può Ah no Il mio pazzo preferito Signor Pink Salve Salvino Che gliela Porca troia Vedo un po' che fa così Però bro Arrivò Olaf Eh lo so Lo so Eh no Niente Non ci sono riuscito Troppo firato Dai Triad Facciamo il drago almeno Dai Dovremmo riuscire a farlo Però Non ce la facciamo in tempo Non ce la facciamo mai in tempo Wow Hmm Daniele Quale è il segreto Per essere così fighi Tutti i giorni Bro Borrare 10 volte al giorno Basti 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 Importante Dobbiamo fare pure Morello Però raga Facciamo Basti Morello Niente Mere Sti cazzi Il gruppo comunque Sono abbastanza forte Una zanzara No Una che zanzara Un altro che zanzara Fate 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 Nascere Fate Nascere Arrivo a gruppare con voi Ora gruppiamo con loro Possiamo farsi a Zonia Però Morello è troppo importante Però Morello ce l'ha già Mazzar Boh dai andiamo al prossimo Che Zonia Andiamo all mid vai All mid So knock and fight Cosa è andato bro Andiamo all mid non c'ho tato niente sto prendendo back eh già se non si fosse fatto il loro i loro campi magari we're back we're back la zona è meglio di zonia no la zona è meglio perché magari Vets mi ulta uso la zona Nocturne mi fa il fiera a me uso la zona mentre con la zona è tanto e basso ma sono comunque tirato invece con la zona la squadra esiste di più ha pure a baitarli molto di più capito temperamento freddo grazie al follow abbiamo proprio un gameplay totalmente diverso quello è forte tocca prendere questo però è stato un po' Vado io, vado io. Bisogna su un Drago con noi Vex, no volte. Tanto non c'è bisogno che vado troppo Poi HP c'ho il sustain. Tra l'altro mi sono sustainato 2600 HP. Mica ragazzi, quella dell'Archangel, 1600. Minchia, 4k di sustain, 4k e 2. Buono. L'obiettivo sarebbe andare top, dritti. Questi inibitor. Però il team non sembra avere la stessa opinione. Sì, mi fa molti meno danni con la Banshee, ha visto che gli temoni sì. Guarda che gg. Jack Shokog, ragazzi. Guarda che gg. Voglio vedere chi ha fatto più danni. Jack Shokog, non male, non male. Non ho messo male Jack Shokog. Ci può giocare con molte vite, tra l'altro. Voglio vedere quanto ha fatto i danni. Gash dice 0 damage, rise, bl 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 bl. Vediamo i danni, vediamo i danni. Sono sicuro che prenderò 19 HP, regà. 19 LP. Non so perché, ma 21. Ancora ne ho 21. Ah, ho capito, ho capito. No damage, no damage, rise, no damage. 35.36k danni. No damage. No damage rise, ragazzi. No damage, no damage. Facciamo un altro game, vediamo se riusciamo a schippare il... No damage. 35.36k danni. Ne, non da, non è schippare il...